Siamo in un nuovissimo video. Siamo nella serie di progoluzioni. Volevo anche festeggiare 4 spriti. 8 spriti. C'è da tante che le volevo fare. Sono in un po' di spriti. Sono in un po' di spriti. Non ho in un po' di spriti. Non ho in un po' di spriti. Non ho in un po' di spriti. Che paura. Non so che power up. Mi puoi venire isoletico. Che paura che c'è... C***o. Stai cercando di mettere all'angolo. Non sono in un po' di spriti. Noi, i mortis. Ah, non ti prendo. Ciò è un'interità. Chi è che prende mortis? È velocissimo. Sì, sì. Guarda, adesso guarda. si vabbè ti prego ci dirò quanto fortuna se volete andate a vedere il video e non ma 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 vai ah che paura che paura che paura Pitorio non da paura che paura però Pitorio li hai chiamanderti Pitorio fa pasta con il game ai bloccato ahahahahah ahahahahah ahahahah 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 a la la un po' che non mi piace el cappon oooohh che cosa mi piace ahahahahah come no no la povera cassa era così giovane con la casa il primo un ragazzo faccio mi l'evitare ma ciao ma s'gol ma è da tutto che schifo che caglio spero che muori godo brava shale se sei morta brava shale no guarda che ti muo vabbè facciamo adesso andiamo su football magari ci da qualcosa anche lui anche lui che è più forte guardate qua cosa potrei fare potrei fare questo io vorrei potenziarmi il primo a livello 7 ma mi mancano un po' di venete diciamo 50 dai no no 54 ce la possiamo fare adesso che ti va a dire che ti va a dire c'è il modo di dire non sapevo un person un click petro corri nooo voglio morire cosa mi fico a fare dai non ce vado a credere ma con la bibi la uccido io come si fa a caricare una bibinetta c'è un bibi che è forti oh raga ma fanno schifo bibi mi sta perdendo questo gioco cioè il player di questo gioco ne facciamo un'altra sennò facciamo era facendo questo qua ho guardato la pallina ma sono morto come un mingolo se ne vuoi recuperare vai lanciare l'orso se la potete fare no 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 la palla la palla mia 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 grande orso te lo swag orso che tira a farci che tira a farci dai che lo facciamo dai che lo facciamo oh my gosh che Ronaldo che tira mi sono anche girato ma dai ma chi vuole accompagnarmi facciamo un'altra dai tanto sono il king facciamone un'altra ti prego portami bulla al grado 16 dai 30 secondi uno no di meno guarda guarda hai fatto abbastanza prendi la palla prendi la palla ce la puoi fare oh sto spessando bravo bravo no no è morto cosa ha fatto si l'ha fermato gol dai dai io l'ho detto vengo tagli tu vuoi una bravo? tu vuoi una bravo? no no dai dai noi ci parliamo facci venire avanti corriamo oh volevo un po' oh volevo rubarli il gol va bene siamo l'ultima dai ragazzi vi apro la cassa vi apro la cassa leone vieni a noi vabbè non potevo chiamarlo era troppo bello siamo all'ultima esperienza con il primo che è che posso portare uno che voglio portarmi al grado alto uno scarso uno scarso come bari bari non è scarso ha la ulti più forte cioè più facile da caricare di tutti secondo me mangiato tu non puoi avermi ma il mio colpo stava arrivando ma il mio colpo stava arrivando vabbè ragazzi questo video è finito se lasciate like iscrivetevi se non siete iscritti sappiate che porterò spero una serie su minecraft nella vanilla di lion perchè mi abonnerò al suo canale youtube per chi non lo conosce lion è un è un un youtuber che cioè è il mio youtuber preferito e è un youtuber bravissimo è una serie di minecraft e vorrei cercare di fare gli episodi con lui un po' e per questo episodio è tutto ragazzi vi ho spoilerato un po' le prossime serie e ci vedremo ciao ragazzi